Ieri eravamo due cusine, una che andavamo all'uerno perché era più alta. L'altra era una cusina che era molto ben più fresca perché era a peire e al sol. L'altra era la porta, una che andava azzurra in planar la ciambra e una che andava d'areira in tal caso. Allora qui distante si dispiaceva qui perché non si stava ben, era molto ben più fresca. E qui l'altra era un gran fornel, d'andrino facin per mai fi i car fornel, ma eravamo sì per far la conserve, per far tutto. Mi portavamo lo piro al pendio per far la conserve, per far via la cosa. Ma le drian pa mai, non servivamo pa mai dal fornel. Però non si stava qui perché non si stava ben. Poi l'uterno all'una non si dispiacevamo dalla cusina. Perché l'era più facile da usciuta. Lei era la stuva. Lei era... Nessa la puoi avva prendendo la ciambra. Due buffet, un sofà, la macchina da cuse eccetera. E Lubogne fuori, Lubogne. Eh, Lubogne era poi Lubogne. La tinozza, un piere, un cestabi. La tinozza, non cestabi. Era una stuva, non faceva il sud d'alega. E poi noi lavavamo e qui non c'è la tinozza, non cestabi. La mamma aveva comitato una pastura che servia da tavolo. Eh. Quando era meno che la fazia freddo, la mamma non portava l'uterno a stabi. Si. E qui non si stava bene perché non usava a ciauta. Lei era un parchetto, la pastura, la stuva. E lui non aveva cuse qui perché la fazia a ciauta. E già lo buono era qua. Lo buono era qua. Era padorte. E il gabinetto era fuori. Il gabinetto era la turca. Ah, l'ha aperto ma. Il gabinetto era la turca. Eh. Era già corto. Esatto. Altro che. Eh, proprio. Voglio guardare le cose da mangiare? E io ero in un armario, quando ero in un'altra casa, che era più fresca. Allora la mamma aveva in un armario con la griglia e la mamma aveva lullato. che aveva in un'altra casa, la cosa che aveva in un'altra casa è fresca, le biori, tutte quelle cose qui. E invece la crotta, loro erano tanti, quando erano salami, fassero la griglia, vettavano la tolla, vettavano il salame, e le vettavano la griglia. E poi la griglia? Sì, anche la griglia, la doravano per fare la fritta, per fare la cosa, la cucina. Eh? La plastica è arrivata, dunque quando mi aveva uscito di 17 anni. Eh. Allora, diciamo, 49, da 60, 59, no, da 50. Da 56 più o meno, più o meno da 56, 55 in 56. La televisione, non c'era la prima televisione, qui era al centro Arvillante, dove erano a scolami, qui erano in una stanza, con la gente, qui erano a vedere la televisione. E l'era sempre tutta piena, Giuseppe era lasciata da doppia, allora l'era sempre piena piena, con la scoletta qui, con la grossa televisione. è. Eh. Entrami giù, e arriva tanti anni, apprezzo. Quando mi passò, era da fare la lessina, tutta a mano, tutta a mano, lavati tutti i suoi, 10 giorni, e c'era da lasciare i suoi, perché quando veniva il cliente, a prendere la via, era da lavare i suoi, allora era da savonare, da savonare tutta a mano, i suoi, i bagaggi, tutto. Poi era una grossa lessivesa, che buttava, a chiedere tutte le cose, ben rangiare, poi, e faccia bigli laiga, e l'ho perborato. Poi non vuoi dare tutta laiga, bionda ci, di bagaggi. E poi non lasciava che il classerfer dissesse, allora la mia bel bion, l'ho perborato, e lo passava, e ora mi marò dopo a mano, e non buttava. Comunque, buttava laiga bionda, e poi mi guardava ci. Ma, apre, l'ho percorso laiga fredda, e, la mia nascita, l'ho percorso di 7 gradi, sotto a zero. E allora, l'ho percorso laiga fredda, l'ho percorso, ero con gira, piena zang, per la mano, più per mai neanche lavavate. Ma, la mia nascita, la mia nascita, perché, poco se mi aveva misura, e allora, li lavavano mia, e li sciuava. Poi, a tre ore, partio. da sin già, e mi aveva misura, i gari, un bicicletta. E lì, 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 Bussum partì, l'havia lagato tutto il corrido, l'havia passato l'aigua sotto la coltia e l'havia lagato tutto il corrido. E volevo venire a mezzun, ma ne avevamo qui d'habitare qui e qui tutta l'aigua. Poi era da fare la provista di bosco, la provista di charbon, quando vengasse a mezzun. E poi mi tornava a pelare l'olens, ma tenen bicicletta. A mia madre aveva una scatola parella e parella, tutto a lavorare con la punta del hotel e l'havia iniziata tutta la scufa, la scufa l'era. L'era costumverde, ma non ero da quello per la diventia, da tutti per lavorare. E la scatola qui n'è ancora, valla, non mi sono. E l'era, l'era un carignare, ma madonna che la faccia la scatola, sì. Perché la scatola lascia proprio che cosa. Io andava in pastura, mentre io andava in pastura e travaiava con le cose qui. E l'era un regal che li ha fa un carignare, da crescatola qui, e l'era ancora per crescatola. E la grandamai aveva con una cosa, una corugna, per filar la lana, che era con tutta a travaia parei. Ma io avevo tant passione, son vieglie, per fare tutte quelle cose qui. E ora l'ana d'arte cose a travaia parei, ma io fan piuttosto, o la macchina, io fan pa mare. Ma non c'era più fama, ma no, ho piuttosto la macchina. E madura proprio tutta a mano, tutta, tutta, tutta. Tante cose. Ciao. multi vielen Grazie a tutti